Come era accaduto per la guerra in Ucraina, anche per il terremoto che ha colpito Turchia e Siria, i pistoiesi hanno aperto il loro cuore con un flusso di generosità che non conosce sosta. E' quello che sta accadendo oggi come allora alla Giorgio Tesi Group, che ha spalancato nuovamente le porte della propria azienda nella zona di Badia Pacciana per ricevere materiali per aiutare le popolazioni terremotate. C'è bisogno, c'è necessità e soprattutto c'è bisogno di un intervento tempestivo, perché fa freddo, c'è bisogno di generi alimentari, c'è bisogno di coperte, scarpe, cappotti e quindi non potevamo aspettare, non potevamo aspettare in nessuna maniera, quindi la comunità si è attivata grazie sicuramente alla nostra logistica, alla famiglia Tesi. Così come era avvenuto per il conflitto ucraino, anche in questo caso a far scattare la scintita del progetto umanitario sono stati i dipendenti d'origine straniera della ditta, in questo caso Turchi, che grazie alla collaborazione con l'azienda Gardenza, partner commerciale di quel paese, della Giorgio Tesi Group, hanno lanciato l'appello. Siamo veramente molto tristi, ciò che è successo è un grande disastro purtroppo al momento. La risposta non si è fatta attendere, la generosità dei pistogliesi si è tradotta in prodotti, latte in polvere, pannolini per bambini, vestiario per grandi e piccoli, sacchi a pelo, borse d'acqua calda, Torce e Termos, che serviranno a denire i disagi di quanti hanno perso la propria casa ed ora si trovano in grande difficoltà. A contribuire al progetto, anche partner istituzionali come Coldiretti. Come Coldiretti abbiamo mandato una mail a tutti i nostri contatti, il personale della federazione di dirigenti si stanno adoperando in prima persona e quindi anche noi vogliamo essere fortemente di aiuto di fronte a questa situazione di grande necessità. La raccolta proseguirà fino a tutta la giornata di martedì 14 febbraio, data dopo la quale partirà l'ultimo camion diretto in Turchia. Abbiamo parlato, abbiamo fatto un accordo con protezione civile di Turchia. I camion verranno direttamente sul deposito di questa protezione civile, apriranno lì e grazie allo Stato turco faranno tutta l'organizzazione per portare questa aiuta alle persone necessarie che hanno bisogno.